Sono numerosi i musei sparsi nella provincia di Belluno che contribuiscono ad arricchire l'offerta culturale del nostro territorio. Dalla Casa del Tiziano a Pieve di Cadore fino al Museo Diocesano di Arte Sacra di Feltre, le strutture museali costituiscono una rete provinciale densa e variegata. Rete che potrebbe presto entrare a far parte dell'Associazione Nazionale Piccoli Musei, beneficiando dei vantaggi che l'ingresso in una realtà associativa più vasta potrebbe sicuramente portare. Ma qual è lo scopo di questa associazione? Fare in modo che anche i piccoli musei, non solamente le grandi strutture, abbiano la loro voce e possano in qualche modo essere valorizzate anche se le risorse non sono quelle di una grande struttura, le risorse umane, non solamente le risorse economiche. Per far questo è nata l'Associazione proprio perché mettendosi tutti insieme sia più facile appunto reperire forze, forze, idee e progetti da sviluppare insieme. E proprio per assecondare questa voglia di fare squadra, il rinnovato Palazzo Fulcis ha ospitato un incontro volto a raggruppare le realtà museali nazionali per una giornata di interscambio e condivisione. È un momento di incontro tra persone, tra esperti, tra conservatori, tra appassionati anche. Un momento di incontro per discutere di come si può andare avanti tutti insieme, insieme tra musei e insieme soprattutto con i territori. Perché non è più sufficiente fare rete tra musei, fare sistema tra musei. La sfida del museo del 2017, degli anni a venire, è quella di incontrare, legare con i territori di appartenenza.